Il simpatico umorista Luca! 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 Un'altra rappresentante della mia famiglia assolutamente anomala che si diletta oltre a suonare il basso anche a sparare cazzate e in particolare a fare il rumorista e la vecchia fattoria a modo nostro fa così le mani, le mani iotico iotico e la vecchia fattoria a vegne sconto c'è la gallina puoi continuare questa gallina si spaventa perché arriva un cavallo al galoppo arriva arriva il cavallo arriva al galoppo e ci accorgiamo che c'è una mosca sull'orecchio questa è nuova eh devi toglierti il cappello e ne abbiamo anche un'altra c'è l'amantide religiosa però ti vedono solo quelli in prima fila mi sa dai com'è l'amantide religiosa bravissimo basta c'è il maiale nel mattatoio ovviamente il maiale si lamenta nel mattatoio perché ci sta il fattore che lo sta per mattare con la motosega e l'idea l'aria no è fiammute sei bagnata la candela e c'è tutto questo frastuono paperino che stava riposando si sveglia tutto arrabbiato paperino ormai sei svegliato a questo punto decide di organizzare una festa si mette a fare in console il dj scratch money e a questo punto visto che la festa è iniziata che festa sia che stava riposando attraverso pezzi quello che stava riposando lo che stava riposando e non si che stava riposando io qua dovrei presentare Luca Santini scusa scusi signorina ma che stiamo facendo dici mi che stiamo facendo ancora non mi ha detto niente non te lo posso dire niente allora dai per Natascia provino superato facciamole un applauso Natascia lei in realtà si chiama Antonella Vitale la bacino allora andiamo avanti con la musica adesso vi porto in Spagna con la storia